Aldo nasce a Crema di Gallarate il primo novembre del 1926. Aveva compiuto da un mese 96 anni. Una vita lunga, ma ancora più lunga se pensiamo alle tantissime iniziative, progetti, imprese, cui ha dato vita con successo. Se pensiamo alle sue infinite passioni intellettuali, artistiche e politiche. Se pensiamo alla ricchezza affettiva della sua vita. Un uomo molto amato e che ha amato molto. Un uomo mai banale, con cui polemizzare e discutere con ferocia, ma sempre con intelligenza, con cui ho condiviso battagli identitari importanti. Ho conosciuto Aldo da ragazzo, che è l'amico dei miei genitori, e lo ricordo con tutta la simpatia, il coraggio e la capacità che gli erano proprie. generoso, colpo, curioso, appassionato e pugnace, memorabili in conversazioni con lui e con i suoi amici. Grazie. 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 Grazie.